Come sempre fa un aggiornamento sui nuovi contagi, i nuovi casi covid in Abruzzo. Posso anticipare che siamo ancora in nuovi positivi contenuti, anche se un po' più numerosi di ieri, della giornata di ieri, ma resta purtroppo il dato dei decessi, solo oggi sono cinque, anche se alcuni di questi cinque appartengono a dei riconteggi dei giorni precedenti, ma dunque sono cinque le vittime. Ma per tutti i dettagli del bollettino odierno e anche per parlarci di un altro aspetto che evidenzia il legame in negativo purtroppo fra obesità e covid, c'è in collegamento con noi Anna Di Giorgio, credo proprio da Chieti davanti all'Università d'Annunzio. Buonasera Anna. Buonasera Marina, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, siamo ritornati a Chieti presso l'Università d'Annunzio perché proprio qui questa mattina abbiamo intervistato il professor Dorazio per questa ricerca dell'Università d'Annunzio che ha messo in evidenza questa correlazione pericolosa tra il rischio di contrarre sintomi più gravi del covid-19 tra le persone che sono obese. Ma su questo torneremo tra poco. Iniziamo io direi parlando proprio dei dati contenuti nel bollettino di questa giornata, di questo mercoledì 19 maggio 2021 in cui si registrano 72 nuovi positivi al covid-19 di età compresa tra 1 e 80 anni. 72 positivi che sono stati individuati su 3.415 tamponi molecolari e 2.372 tamponi rapidi. La percentuale dei positivi sul totale dei tamponi è pari all'1,2%. Il numero dei decessi purtroppo, lo dicevi anche tu in apertura appunto del nostro telegiornale, oggi fa registrare un più 5 persone decedute di età compresa tra 69 e 91 anni. Il totale dei decessi è di 2.465. I dimessi guariti sono 385 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo al covid-19 sono 6.095, meno 319 rispetto a ieri. Gli ospedalizzati in tutto l'Abruzzo sono 200. Questo dato fa registrare un più 1. Ieri erano 199, oggi sono 200. In terapia intensiva invece i posti letto occupati sono 18 e questo numero resta stabile nel bollettino di oggi rispetto a quello di ieri, con due nuovi ricoveri in più. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL ci sono invece attualmente 5.877 persone, meno 320 rispetto a ieri. E veniamo adesso alla territorialità dei dati di questo bollettino sanitario, sanitario partendo dalla provincia di Teramo che è quella che oggi ha fatto registrare il maggior numero di positivi, sono 32 in più rispetto a ieri. Segue la provincia di Chieti più 22, poi quella di Pescara più 11 e infine quella dell'Aquila con più 3. E questi sono appunto in estrema sintesi i dati marina per tutte le specifiche, tutti i dettagli ovviamente vi rimando alla consultazione del nostro sito internet, nella sezione approfondimenti dove ci saranno ovviamente tutti i dati più approfonditi. Certo, abbiamo anche i grafici, noi invece avevamo fatto cenno prima proprio a questo studio che mette in correlazione l'obesità e il Covid e chi ha incontrato questa mattina? Questa mattina vi dicevo che abbiamo incontrato proprio il professor Nicola Antonio Dorazio che è ordinario di scienze dell'alimentazione dell'Università d'Annunzio di Chieti, sempre con la telecamera di Andrea Berardinelli. Abbiamo realizzato un'intervista al professore per questo studio che ha prodotto e che riguarda appunto questa correlazione tra l'obesità e il Covid-19, uno studio tra l'altro che è stato pubblicato anche su una delle più importanti riviste internazionali del settore, uno studio, ricordiamo, che è stato realizzato anche con la collaborazione della dottoressa Maria Alessandra Gammoni, assegnista di ricerca proprio presso il Dipartimento del professor Dorazio. Gli spunti sono stati tanti, una sintesi però dell'intervista magari possiamo mandarla in onda e se sei d'accordo Marina, subito dopo le parole del professor Dorazio ti restituiremo la linea. Quindi con l'intervista al professor Dorazio vi auguro una buona serata a te e ai telespettatori. L'obesità rappresenta un crocevia fondamentale perché l'obesità è ricco di fattori infiammatori, quindi diciamo che già di per sé la malattia porta una serie di attivazioni di fattori infiammatori. Con in questo caso l'associazione con il virus abbiamo voluto vedere se c'erano in questo caso dei recettori, si dice in gergo tecnico, da parte del virus che avevano una predilezione per il tessuto adiposo, che è il tessuto poi in questo caso della persona sovrappeso e obesa. E abbiamo visto che c'è questa tendenza, quindi c'è un crocevia dove i cosiddetti recettori agiscono tra di loro attraverso delle vie infiammatorie e danno la possibilità di arrivare ai siti recettoriali con più facilità. Quindi il virus, con un tessuto adiposo abbondante e soprattutto in questo caso con una persona obesa, ha più facilità di arrivare ai siti recettoriali e quindi in questo caso di far ammalare più facilmente il soggetto obeso. Professore, il lockdown di questi lunghi mesi di emergenza sanitaria sicuramente ha contribuito a far aumentare il sovrappeso di ognuno di noi perché le palestre erano chiuse, molti erano in telelavoro, molti addirittura erano in cassa integrazione, quindi comunque costretti a casa. Diciamo che in questi mesi ci siamo dati un po' al cibo, però quando si può definire realmente una persona in sovrappeso? Cioè qual è il campanello d'allarme che deve cominciare a farci davvero preoccupare, anche in funzione Covid ovviamente? Ma è chiaro che non dobbiamo arrivare a un peso esasperato, ci sono le tabelle che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già codificato, ad esempio prendendo in considerazione l'indice di massa corporea, anche se l'indice di massa corporea potrebbe essere valutato un po' con degli errori, cioè il rapporto fra peso fratto all'altezza al quadrato. È chiaro che se noi dovessimo avere fino a 24,5 siamo ancora in un range di normalità. Il problema quant'è? Che quando si supera di 4, facciamo 5 chili, ecco, anche 6 chili, con un'attività fisica quasi zero, bisogna cominciare ad avere un po' più di riguardo verso lo stile di vita. E quindi in questo caso qual è il consiglio? Lei dice che sarebbe un dovere di ogni medico avvisare il proprio paziente del rischio che si corre? Io dico che la cenerentola della medicina, la nutrizione è stata messa da parte per tanti anni. Bisogna ridare a questa disciplina una identità scientifica e un connotato scientifico come se fosse una qualsiasi disciplina medica, perché è fondamentale. È fondamentale perché poi l'obesità si porta dietro l'ipertensione, le dislipidemie, il diabete e altre malattie. Il campanello d'allarme e l'obesità infantile? Il campanello d'allarme è una realtà molto grave. Io ho fatto una relazione alla Commissione Sanità, alla Camera dei Deputati e ho fatto presente che è una situazione da prendere immediatamente in considerazione, se vogliamo, anzi, se noi dovessimo guardare al futuro di questi ragazzi e soprattutto alla loro salute. Io sono un internista, vengo dalla scuola della medicina interna, quindi non posso che avere una mentalità interdisciplinare. Cosa che non ho visto, né nel Comitato Tecnico Scientifico nazionale né a livello di Istituto Superiore di Sanità.